I fermo immagine delle due stazioni di Andria e Corato prima e dopo l'incidente, proiettati su due maxischermi, nei quali si vedono i treni sui binari in attesa del Via Libera, la creazione di un treno bis da Andria verso Barletta, l'arrivo di un soccorritore del 118 ad Andria che chiede indicazioni sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo lo scontro e ancora il dettaglio dei venti pericolati, ovvero incidenti sfiorati verificatisi tra il 2003 e il 2015, alcuni dei quali hanno dato origine anche a procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti ritenuti responsabili. Nell'udienza di ieri mattina per il processo sul disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla linea binario unico di ferro tranviaria tra Andria e Corato, con 23 morti e 51 feriti, ha tenuto banco la deposizione di un investigatore della squadra mobile di Bari, e cioè il sostituto commissario John Battista. È stato lui ad occuparsi delle indagini in collaborazione con il NOIF, il Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari, e durante l'udienza di ieri a Trani ha ricostruito gli eventi che culminarono alle 11.06 del 12 luglio nello scontro tra le T1021 diretto da Andria a Corato e le T1016 da Corato ad Andria. Le sue indagini, secondo quanto lui stesso ha riferito in aula, si sono avvalse delle immagini recuperate dalle telecamere delle stazioni coinvolti, alcune proiettate in udienza, le sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti, nonché dell'analisi dei pericolati. La sua testimonianza è ritenuta centrale dai PM Marcello Catalano e Alessandro Pesce, che rappresentano l'accusa nel processo, tanto da aver richiesto più di cinque ore di interrogatorio. Per il controesame dei legali di parte civile e degli imputati, il processo è stato aggiornato al 4 marzo, quando saranno sentiti anche due ingegneri consulenti della procura di Trani incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente. Un'udienza dunque particolarmente impegnativa, con una ricostruzione minuziosa delle diverse fasi d'indagine. Il commissario Battista ha messo in evidenza anche i possibili errori nel protocollo commessi oltre alle formalità procedurali non rispettate da alcuni dipendenti di Ferro Trambiaria in quella mattina. Lo stesso commissario ha evidenziato come vi fosse un atto interno di uno dei dirigenti tecnici di Ferro Trambiaria, che all'indomani di uno degli incidenti sfiorati nel 2014 evidenziò la possibile inadeguatezza del sistema blocco telefonico. Infine, dei venti incidenti sfiorati, non vi sarebbe mai stata comunicazione a Regione Puglia e i Dustif. Ora si tornerà in aula proprio il 4 marzo con il controesame delle difese dalle parti civili del commissario della squadra mobile di Bali.